ciao da absim diciamo che alle 22 del 21 marzo ed oltre le 22 si poteva fare anche qualcosa di più divertente di più avvincente di più appassionante che guardare venezuela italia la prima delle due amichevoli statunitensi però comunque è stata una partita interessante si è visto qualcosa di interessante si è visto qualcosa di positivo soprattutto nell'idea soprattutto nell'impostazione soprattutto in in quello che doveva essere il piano partita e che è stato solo a tratti personalmente ho visto buoni buoni 20 25 minuti proprio all'inizio della partita anche se si è detto che è stato un brutto primo tempo ma non sono d'accordo perché è chiaro che c'è stato l'errore di buonaventura l'errore di buonaventura che ha giocato piuttosto male è vero che c'è stato il rigore di buongiorno che per il resto ha giocato piuttosto bene anche se mi è piaciuto di più scalvini però comunque tutto avviene anzi il gol del venezuela arriva verso la fine del primo tempo già in una fase in cui l'italia aveva abbassato i ritmi e aveva smesso di giocare con una certa fluidità però i primi 20 25 minuti si sono viste davvero delle buone cose per esempio si è visto chiesa con la capacità di stare nel vivo del gioco trovando lo sbocco trovando il passaggio trovando il compagno libero si è visto un locatelli cercare di dare un certo ritmo al gioco proporsi per venirsi a prendere il pallone e impostare con una certa rapidità si sono visti poi i posizionamenti davvero interessanti con frattesi che andava sostanzialmente a fare il centrocampista centrale il trequartista centrale cambiaso che quindi faceva l'esterno largo a sinistra mentre a destra si verificava e si è verificata anche nel secondo tempo una situazione diversa cioè mentre udoggi e cambiaso erano diciamo i due di rimpetta i due contrapposti però cambiaso stava sempre largo a sinistra è entrato dentro pochissime volte perché non aveva il suo corrispettivo che gli andava a fare il contromovimento perché frattesi stava stretto in mezzo dall'altra parte c'era udoggi che veniva dentro al campo e chiesa stava largo quindi chiesa era il contrapposto diciamo di frattesi anche se era un assetto appunto sfalsato era un assetto asimmetrico sia nell'impostazione di base quindi in non possesso che poi soprattutto negli sviluppi però poi abbiamo visto un buonissimo reteghi a parte i due gol bellissimi e bellissima giocata di giorginio sul sul 2 a 1 tra l'altro in una in una così in un momento estemporaneo perché nel secondo tempo l'italia ha attaccato pochissimo ha tirato pochissimo infatti i dati dicono con 12 tiri totali di cui 4 nello specchio in venezuela 12 tiri totali di cui 3 nello specchio pur a fronte di un 67 per cento di possesso palla secondo i dati secondo i dati secondo i dati sofa score però reteghi soprattutto bravo a muoversi su tutto il fronte d'attacco ad allargarsi per consentire anche a chiesa di entrare di entrare dentro e quindi il supporto dell'azione da parte di udogi sia da esterno che un po nel mezzo spazio è stato veramente utile intelligente questa mossa di spalletti di mettere udogi dentro al campo nel mezzo spazio per la costruzione così da facilitare poi la costruzione da dietro di scalvini di locatelli e con buonaventura che avrebbe dovuto fare altri movimenti avrebbe potuto fare altri movimenti quelli che sono stati difetti magari li abbiamo visti in alcune situazioni un po isolate un po solitarie cioè quando magari chiesa ha voluto e dovuto che comunque ci sta anche in una partita andare all'uno contro uno la stessa cosa nel secondo tempo zaniolo che secondo me è entrato molto bene subito al tiro e poi ha fatto una bellissima giocata però a magari intestardendosi magari andando più in solitaria che trovando una vera costruzione altro difetto o limite l'utilizzo di di lorenzo che piace tantissimo a spalletti quando lo allenava al napoli diceva per me di lorenzo in campo parte da voto 10 però così è sacrificato lo può fare il braccetto lo sa fare perché poi si è trattato soprattutto di fare costruzione pochissime volte l'italia si è trovata a dover fronteggiare una ripartenza un contropiede e stando con la difesa scoperta da parte del venezuela quando è successo in realtà si è visto che cosa anche la difficoltà di cambiaso di tenere tutto il campo e dall'altra parte di ud oggi perché c'è stata anche una situazione in cui addirittura è stato chiesa nel primo tempo a dover scendere a fare il terzino perché ud oggi da mezzo spazio diciamo da mezzala era rimasto un po dentro e un po e un po indietro rispetto alla ripartenza però fondamentalmente la difesa ha fatto buona guardia e non ha avuto veramente problemi ripeto l'infortunio dell'errore di buongiorno che provoca rigore poi sulla costruzione dal basso che ha sempre funzionato benissimo in questa partita anche perché il venezuela non ha opposto un pressing asfissiante non ha opposto un pressing molto intenso e ben organizzato ha lasciato molti sbocchi lì c'è stato l'errore di buonaventura ma l'errore di buonaventura non si vada a demonizzare anche questa volta la costruzione dal basso perché solo chi non fa non sbaglia e anche quando rilanci lungo col portiere puoi perdere il possesso del pallone lo perdi in una zona più avanzata ma potresti comunque subire un contropiede quindi non è che la costruzione il lancio lungo va sempre bene e la costruzione dal basso è sempre pericolosa tutto quello che si fa in campo è pericoloso anche passare un pallone a un uomo libero perché puoi sbagliare il passaggio e tanti passaggi sono stati sbagliati effettivamente per dosaggio sbagliato per appunto una questione di misura tecnica però anche di posizionamenti e ripeto dopo i primi 20 25 minuti abbiamo visto un italia pur interessante pur con delle buone soluzioni in campo ma rallentare sempre di più gioco sempre più stagnante gioco sempre più lento ritmo che non riusciva a salire in questo senso i cambi non hanno svoltato molto bene zagnolo che ci stava anche in quel momento raspadori ha sparato alto proprio su una bellissima azione su quella bellissima azione proprio di zagnolo che manda il giocatore dentro dentro l'area è stata una bella azione coinvolgente zaccagni non ha inciso con per quanto mi riguarda chiesa si stava spegnendo chiesa era stanco si è visto quando è uscito ci stava il cambio ci stava perché chiesa aveva finito completamente di saltare l'uomo di andare all'uno contro uno di trovare delle buone trame delle buone geometrie in maniera intelligente con i compagni però è partito veramente bene chiesa cambiaso ha commesso qualche errore c'è stata una situazione nel primo tempo in cui erano un po tutti dentro l'area di rigore e lui ha sbagliato un passaggio ma proprio ha sbagliato il tempo del passaggio e quindi poi c'è stata anche una ripartenza dove è andato lui a fare fallo e non è stato ammonito ma rischiato chi forse è entrato meglio di tutti è stato barella però perché con il brutto primo tempo di buonaventura il cambio di barella ci stava tutto certo non è stato il barella dell'inter non è stato il barella dell'inter perché assetto di gioco diverso barella l'inter ha molti giocatori dietro perché gioca molto avanti e in avanti ma l'inter è una squadra che copre il campo dinamicamente questa italia invece aveva quasi sempre i compagni sopra palla chi aveva dietro dietro la palla cioè dietro esatto dietro dietro il portatore di solito c'era c'erano i difensori c'erano c'erano appunto scalvini c'era buongiorno a tratti di lorenzo soprattutto quando conduceva magari locatelli che che ha impostato o appunto giorginio che è entrato che è entrato bene e magari ha messo quella grinta ha messo quel cambio di passo quell'intensità che locatelli non stava più mettendo nel corso della partita quando poi è arrivato il cambio e quindi in un sistema come questo in cui barella trova lo spazio avanzato un po più intasato non può essere lo stesso barella che quindi si è mosso meno dinamicamente che quindi ha fatto fatica a trovare degli spazi dove fare le giocate questo però perché nel corso della partita il venezuela ha indietreggiato sempre di più ha chiuso sempre di più gli spazi si è chiuso sempre di più dietro e ha creato in effetti molto poco anche nel secondo tempo rischi per l'italia di subire gol onestamente più nel primo tempo più nel primo tempo con qualche tiro ecco qualche situazione dove magari a difesa era un pochino aperta però erano tiri tutto sommato innocui o comunque non particolarmente pericolosi tiri da fuori area tiri da posizione defilata non ho non ho purtroppo il dato xg ma qui è normale perché quando si tratta di queste amichevoli le statistiche sono veramente basilari molti portali non le pubblicano neppure quindi ci dobbiamo accontentare di questo altro dato 612 passaggi di cui 553 arrivati a buon fine quindi 90% contro un venezuela 80% di precisione dei passaggi sicuramente qualche pallone lungo anche magari neanche esasperato perché ci sono stati più che altro cambi di gioco quindi palloni lunghi più che altro in orizzontale perché a un certo punto ripeto si è andata a intasare tutta la tre quarti offensiva e non ci si riuscì più tanto a muovere e questo sicuramente poi è un difetto è un difetto della tattica è un difetto di come i giocatori sono andati in campo quindi quindi in questo senso spalletti ha commesso sicuramente degli errori dopo la partita dice inutile parlare di moduli se si commettono degli errori non vorrei che fosse una colpevolizzazione dei giocatori secondo me non lo era era per dire visto che gli è stato chiesto il 343 il modulo ma che poi non era neanche un 343 ripeto perché era simmetrico non è mai stato 3 davanti né era 3 ben distribuito in senso orizzontale così come non è mai stato veramente 4 a centrocampo però giustamente se gli chiedono del modulo il problema non è il modulo in questa partita è che le premesse per fare un certo tipo di calcio c'erano e nei primi 20 25 minuti si sono viste poi si è persa un po di fiducia si è perso un po di autostima si è persa un po di carica emotiva e anche atletica si è perso un po di slancio e quindi un italia che si è andata a spegnere da sola però l'impostazione interessante ci sta ripeto la posizione di udogi l'utilizzo di frattesi che avrebbe potuto fare sicuramente cose migliori però ha fatto una buona partita in diciamo di andare anche a sporcare il possesso avversario cercando di recuperare il problema quindi una buona interdizione con una buona voglia comunque dove è dove è stato carente secondo me è stato proprio nelle proiezioni nei posizionamenti senza palla nel farsi trovare libero nell'offrire delle soluzioni però è un'italia che le soluzioni ce l'ha reteghi è stato quasi dominatore del terzo offensivo anche se non è stato cercato tantissimo perché soprattutto ripeto nel secondo tempo si è andati ad attaccare sempre meno però quando riceveva palla sapeva come muoversi sapeva dove andare e metteva in difficoltà la difesa avversaria con buona maestria oltre ad aver fatto un ottimo un'ottima pressione in avanti che non possiamo definire del tutto pressing perché spesso è stata solitaria cioè reteghi andava anche addosso al portiere oltre che sul portatore però lo faceva un po da solo ecco su questo quindi si deve migliorare si deve migliorare sicuramente sull'intensità del pressing e quindi di conseguenza anche sull'efficacia sulla continuità del pressing si deve migliorare negli smarcamenti nelle rotazioni nel movimento dei giocatori nel movimento di rotazione dei giocatori su cui spalletti è bravissimo perché ce l'ha fatto vedere al napoli in cui i giocatori si muovono si smarcano dai e vai e quindi occupazione dinamica degli spazi dentro fuori queste cose si sono viste pochissimo per gran parte della partita dove la partita è stata sostanzialmente bloccata poi è chiaro che non era facile una partita comunque un venezuela tosto che non perdeva da tempo come aveva sottolineato spalletti prima della partita aveva perso solo con l'argentina una squadra agguerrita aggressiva poi andando a vedere le chance le occasioni magari da gol le ha avute di più il venezuela considerando soprattutto il primo tempo ma ripeto perché si è trattato di quelle ripartenze lì dove comunque l'italia stava attaccando nel secondo tempo ci hanno creduto molto meno però ripeto era anche un discorso di qualità poi dell'occasione si occasione da gol ma quale tipo di occasione occasioni con tiri per lo più della distanza e poco e poco altro il che non significa sminuire quello che ha fatto il venezuela che è stata una buonissima partita significa dire comunque ci si è difesi bene l'italia ha avuto una buona fase anche di non possesso sicuramente non perfetta come non è stata brillante come non è stata brillante la partita come non è stata bella come non è stata entusiasmante anzi a tratti è stata lenta a tratti si è trasformata anche in una partita un po noiosa anche più di un po però per esempio abbiamo visto un miglior locatelli un miglior locatelli secondo me anche se di poco rispetto a quello della juventus più che altro per la capacità di smistare palloni più corti e anche più velocemente senza indugiare troppo col pallone tra i piedi abbiamo visto un chiesa in ottime condizioni solo all'inizio poi è andato scemando però si è incastrato bene da esterno sinistro nel nel sistema d'attacco per quanto mi riguarda un udogi molto utile un ottimo reteghi la versatilità comunque di frattesi e l'utilità fondamentale di barella rispetto a questo buonaventura diciamo che sicuramente spalletti avrebbe anche potuto fare altre scelte ma qui torniamo anche alle alle convocazioni perché per esempio ecco ha preso ha chiamato orsolini che avrebbe anche potuto giocare magari giocare alla prossima in un sistema diverso perché significa rinunciare a frattesi in quella posizione lì che poi diventa che poi diventa anche con l'ingresso di frattesi uscito per pellegrini ecco pellegrini che ha cambiato poi posizione è andato un po' più da mezzala di supporto a fare la sua a fare la sua costruzione dimenticavo infatti l'ingresso di pellegrini però c'era anche politano che non è stato che non è stato convocato abbiamo visto cambiaso potremmo vedere bellanova abbiamo visto udogi potremmo vedere di marco anche se con sviluppi diversi non ha giocato neanche bastoni insomma scelte che potevano essere diverse che però per quanto riguarda questa partita per quello che vale credo sia stata una buona prova diciamo leggermente insufficiente leggermente insufficiente però interessante con ottime prospettive di lavoro e di miglioramento è chiaro che chi pretendeva di vedere un'italia iper brillante o singoli giocatori fare una prestazione straordinaria dopo tre giorni di allenamento compreso il viaggio forse pretendeva troppo grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti continuate a seguirmi per altri commenti di partite e di calcio giocato ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti